Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare un video aggiornamento sulla rosa della Via Tasso Food All Club. Allora, l'altro giorno, ieri pomeriggio, mercoledì pomeriggio, ho fatto l'asta di riparazione con i miei amici e ogni volta che si fa l'asta di riparazione, le squadre cambiano un po'. Tra giocatori che arrivano nel mercato di gennaio, giocatori che partono, scambi tra una squadra e l'altra, svincoli, eccetera, eccetera, qualche modifica alla squadra del fantacalcio si fa e ovviamente anche la Via Tasso Food All Club ha qualche giocatore diverso rispetto a prima. Detto questo, vediamo un po' adesso com'è attualmente la rosa della Via Tasso Food All Club. Allora, come tutti sapete, in porta iniziando mi ritrovavo con Lafont, Dragoschi e Sorrentino. In questa sessione di mercato ho scelto di svincolare Dragoschi perché è andato all'Empoli, perché non è un portiere che mi dà sicurezza e al suo posto ho scelto di prendere Berisha dell'Atalanta. Berisha dell'Atalanta, che è un discreto portiere, non è un fenomeno e secondo me può essere una valida alternativa a Lafont perché ti garantisce qualche clean sheet in più. Comunque sia da qua alla fine dell'anno farò un po' una alternanza tra i due a seconda di come saranno le partite dell'Atalanta e della Fiorentina. In difesa poi praticamente sono rimasto lo stesso. Ho gli otto giocatori che avevo preso all'asta di settembre, sto parlando di Coulibaly, Toloi, Palomino, Masiello, Mancini, Atebur, Castagne e Gonsens. La seconda modifica invece riguarda il centrocampo perché ho tenuto Veretù, che sì, Allan, Duncan, Locatelli, Lazzari, il giovane Pessina dell'Atalanta, però ho ceduto Amsic. Amsic che l'ho dato via perché praticamente fino a ieri sera sembrava che si dovesse andare in Cina. Tra l'altro quando si è scoperto che Amsic è rimasto a Napoli e è scoppiato un casino della Madonna. Gli altri del fantacalcio volevano impiccarmi perché dicevano l'hai dato via posta, l'hai dato via posta. Volevano praticamente squalificare la via Tasso Football Club dal fantacalcio, una roba che non si era mai vista. E al suo posto mi sono preso Paquetà. Paquetà che l'ho pagato 32 crediti. È stata un po' la mia seconda scelta perché il giocatore sul quale avevo puntato era Zagnolo, solo che quei bastardi del Real Colline Pavesi me l'hanno fottuto, hanno speso di più di quanto io potessi spendere. Mi erano rimasti 70 crediti, loro cosa hanno fatto? 71, hanno fatto gli stronzi e quindi si sono presi Zagnolo. Io però comunque sono riuscito a rifarmi con Paquetà, un giocatore su cui punto e che può essere utile al Milan e alla Via Tasso Football Club. Concludiamo poi con l'attacco dove c'è stata la seconda modifica. Io inizio anno ero partito con Geko, Belotti, Gomez, Quagliarella, Suso e Berardi. Di questi ho svincolato Suso e al suo posto ho preso con tutto un giro complesso che adesso non vi sto a raccontare perché altrimenti sarebbe peggio di Tempesta d'Amore. Al suo posto ho scelto di prendere Iago Falke. Ho scelto tra virgolette, ho preso Iago Falke perché mi sembrava meglio che potessi prendere. La mia prima scelta era Muriel, solo che un altro bastardo, questa volta quello del Barcellona, me l'ha fottuto perché anche lui ha speso di più di quanto potessi spendere. Mi erano rimasti 38 crediti, lui ha fatto 39 e quindi pam me la sono presa nel culo. Alla fine tra gli svincolati quello che mi sembrava più fattibile era Iago Falke e mi sono preso Iago Falke quindi va bene. Quindi ora in attacco mi ritrovo con Geko, Belotti, Quagliarella, Gomez, Berardi e Iago Falke. Va bene ragazzi, questo è stato il video di aggiornamento della rosa del fantacalcio. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se giocate al fantacalcio e se avete fatto l'asta di reparazione com'è la vostra rosa al momento, io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube e iscrivervi alla pagina Facebook e lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per i vari canali di YouTube Football Project. Trovate tutto in descrizione, detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!